Sinceramente avrei preferito che la cosa si chiudesse prima Il mio commento non era una risata in farcia a tutti i credenti Era una provocazione Sto diventando intollerante perché ormai chiunque dice la propria So che tutto questo caos parte da un mio post Parla bene, sui social almeno Nelle canzoni faccio fatica a capire che cosa dici US Magazine chi pensi che ci sia? Quelli di Radio Maria? Ciao scappati da casa Io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome Benvenuti in questo nuovo video ragazzi Dedicato ai nostri amatissimi Imitatissimi Male Dissing super trash Da su prima dissato e mi schilla Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però come sempre vi ricordo Se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti E di fianco c'è anche una campanellina Cliccate anche quella per attivare tutte le notifiche relative ai video che pubblico tutti i giorni Sul mio canale Così da rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash e pure su stidissing bellissimi Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Fabrizio Valerio Ah e ricorda, sì, proprio tu che stai guardando questo video Dov'è che devi restare? A casa mia! A casa mia! A casa mia! Prima di iniziare volevo spendere due parole So che questo video già sarà lunghissimo quindi veramente Riassumo tutto quanto Allora, domande più gettonate in questi giorni Perché hai i capelli di un colore e la barba di un'altra? Ragazzi, non lo so, io non mi tingo la barba Mi viene sempre chiesto anche nei primi appuntamenti La gente mi diceva Scusa ma perché c'hai la barba di un colore e te la tingi? No ragazzi, ma vi pare che io mi tingo la barba di qua, di là E qua me la lascio scura e qua invece è rossiccia Io in teoria avrei dovuto avere i capelli rossi Perché mia nonna, mia mamma, mio zio hanno tutti i capelli rossi Ovviamente, naturali Ovviamente io dovevo diventare come? Qua sti capelli terribili Qua la barba che c'è sì c'è no Ed è un pochino rossiccia Vabbè, questo è quello che passa al convento Accontentatevi Seconda domanda gettonatissima Perché lo so che interessa a tutti quanti Ma perché ti metti un fondotinta Che qua sei bianco Qua invece sei scuro, ragazzi Oggi per voi, solo per voi, solo per oggi Offerta del giorno Non ho messo alcun fondotinta Ma io normalmente non metto fondotinta Metto una sorta di BB cream Che è una crema che te metti I pori che ho, i crateri lunari Non si vedono Questo video lo sto facendo apposta Senza niente Per farvi capire che Qui in realtà Dove metto di solito la mia bellissima BB cream Non ho nulla E come potete vedere Secondo me si vedrà in questo video Qui sono rosso E sono rosso Non so per quale motivo Non mi emoziono Fortunatamente davanti alla telecamera In questo momento Però non so perché La mia pelle è sempre rossa qua Mentre qua come potete vedere È bianchissimo Io mi sto guardando Ma perché Secondo me C'è un po' di differenza Anche in questo momento Quando metto questa BB cream In teoria Oltre a farmi togliere Sti cosi da scolapasta Sti buchi da scolapasta Diciamo che Un minimo Un pochino Anche se qua Sono sempre bianco Perché purtroppo Il mio collo è così Non posso farci niente A meno che devo mettere pure qua La cosa E forse lo farò Diciamo che Non so perché Però In teoria Dovrebbe essere Un pochino Di più omogenea La pelle Vabbè insomma Basta Devo dire ste cose Perché in ogni video Qualcuno mi dice E basta E truccati meglio Ma perché c'hai i capelli così Ma perché c'hai la barba così Insomma Volevo rispondere a ste due cose Ragazzi Siamo 60.000 Scappati De casa Io non ci posso credere Perché l'altro Ieri eravamo a 50.000 Oggi siamo a 60.000 Quindi Stanno succedendo cose Shock Veramente E quale altro modo Per ringraziarvi Di questo bellissimo Traguardo Se non raccontarvi Un Bellissimo Nuovissimo Dissing Super trash E stavolta Parliamo veramente Di rapper Quindi Un dissing Tra rapper Rapper Con la R Maiuscola Sì dai Direi di sì Anche se io non me ne intendo Ecco Prima di iniziare Tutto questo bellissimo discorso Ragazzi Amanti del trash Scusate Non del trash Amanti del rap Quindi del trash Sì Ma del rap Scusatemi veramente tanto Perché Già lo dico Che non me ne intendo Di musica rap Detto questo Ho deciso di fare Questo video Perché mi è stato richiesto E in effetti Oggi non parleremo Quindi di scappati Da casa Di tiktoker Di gente che sta improvvisa Rapper Ma di veri e propri Rapper Perché da una parte Abbiamo lui E mi schilla Io penso di averlo Sempre amato Soprattutto La canzone Parole di ghiaccio E poi ragazzi Diciamocelo Cioè Lui è Bellissimo Dall'altra parte Invece abbiamo Un rapper Giovanissimo Lui si chiama Dan Supreme E credo abbia Forse 18 Forse 19 anni Non mi ricordo bene Fatto sta Che è diventato Famosissimo Soprattutto per una canzone Che si chiama Scuola Che se magari Riuscite a tradurmi In attimo Quello che dice Perché io ho provato Ad ascoltarla più volte Ma vi giuro Che mi pare Aramaico antico Ma comunque Questa canzone Ha spopolato letteralmente Su tiktok Perché tutti quanti Ci hanno fatto Balletti Cose Anche la mia amica Che insomma Era pazza Per sta canzone Io non ne potevo più di sentire Sta canzone Basta Ma prima di iniziare Vi ricordo che Ampiamente abbiamo parlato In questi ultimi giorni Queste ultime settimane Di dissing Super trash Avvenuti Tra tiktoker Mezzi rapper Tra addirittura Ex cantanti Di amici Quindi se vi siete persi Anche solo Un video Di questi bellissimi Dissing Che ci hanno tenuto compagnia Durante questa quarantena Ve li lascio Qui sopra Nella i di informazioni Ma veniamo a noi E questo bellissimo dissing Tra Amy Schill Da Supreme E tante altre persone Che non si sono per niente Risparmiate Parte proprio Col botto Perché Iniziamo Con un post Che viene pubblicato Dalla pagina Instagram S Magazine Le parole che hanno dato il via A questo scontro social Tra titani Tra rapper Sono state quelle Di Michele Uad Caporosso Che proprio su S Magazine Ha scritto Quando un rapper bestemmia O allude alla bestemmia La sua musica Muore un po' Perché perde di valore artistico Azzera il suo peso culturale Dovrebbe far ridere? Che roba è? Dà virilità all'artista? Vorreste dirmi Che è come quando Un rapper americano Dice God damn E sempre sotto questo post Leggiamo anche Forse è arrivato il momento Di sottolineare Un aspetto veramente pessimo Che spesso emerge Sui social dei rapper E alcune volte Persino nelle canzoni L'uso della bestemmia Senza cadere in patetiche Trappole religiose Da bacchettoni La bestemmia Come forma di ribellione Lessicale È il punto più basso Che il rap Possa raggiungere Per tanti motivi Che non c'entrano Con la religione Leggi l'articolo Bla 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 E ragazzi Qui preparatevi Allacciatevi le cinture Perché voliamo Verso l'infinito E oltre Ebbene sì Perché questo post Ha fatto infucare Gli animi Di molti rapper Primo fra tutti E qui parte Il nostro bellissimo Dissing È stato proprio lui Amy Schilla Che sotto questo post Si è lasciato andare Ad un commento Abbastanza Provocatorio Perché ha pubblicato Un'imprecazione Le parole di Amy Schilla Non sono per niente Piaciute al rapper Da Supreme Che ovviamente Ha commentato Il commento di Amy Con la parola Cringe Che per chi non lo sapesse In realtà significa Semplicemente Imbarazzante E qui ragazzi Parte il nostro Dissing senza fine Perché dopo aver commentato Con Cringe Le parole di Amy Schilla Da Supreme Si lascia andare Anche ad un lungo Lunghissimo sfogo Pubblicato Nelle sue Instagram stories Da Supreme Infatti ha scritto Per i mille messaggi Che mi stanno arrivando Non ho nulla Contro Emis E avrei risposto Allo stesso modo Anche se avesse Commentato così Un artista Con cui ho collaborato Per dirvi Vengo da una famiglia Credente Ma non cattolica E odio fare i pipponi Ma purtroppo La mancanza di rispetto Verso chi crede È vista come una cosa Normale Quel commento Non era una semplice Bestemmia lanciata Per qualche motivo concreto Ma una risata In faccia A tutti i credenti Che hanno Quell'appiglio nella vita E affrontano i problemi così C'è chi lo fa con l'alcol Donne Psicofarmaci Chi con la droga E chi chiude gli occhi E prega senza rompere il c***o Nessuno Non c'è tanto da Riderci sopra raga Ora con questo Non voglio dirvi Che se un mio amico Bestemmia Lo inizia ad odiare Non ci parlo più Ma un conto è un mio amico Un conto è un rapper Con lo verificato E 1,6 milioni di follower Che fa capire A chi lo segue Che chi crede Non merita rispetto Perché vista nel complesso È così Il post in parte Cercava di spiegare Che nella musica La bestemmia Non dovrebbe esistere Dato che arriva alle orecchie Di chiunque Madonna Mi sembro mio nonno A fare queste storie Però se avete davvero La libertà di pensiero Ragionateci un po' Spero con tutto il cuore Che questa storia Arrivi alle persone giuste Ma anche ai boomer Per farvi due risate BVB E boom ragazzi Di fronte a queste parole Shock dette da Supreme Ovviamente la nostra dose Di trash quotidiana Ce l'ha regalata Finalmente Perché lui 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 E mi schilla Ha voluto pubblicare Neanche ve lo dico Cerco anche di parlare Il meno possibile Di sto video Perché verrà lunghissimo Già lo so Però ha voluto Regalarci un po' Di trash E mi schilla Pubblicando Un sacco di stories Un lunghissimo sfogo Credo fatto addirittura Alle 5 del mattino Cioè cose veramente Shock Proprio da quarantena Devo dire Perché nessuno C'ha di meglio da fare Che fare di singvari Sui social Però devo dire Che in queste stories E mi schilla Ha voluto mettere Qualche puntino Sulle ri Sulle ri E rispondere per le rime Proprio a da Supreme Raga Ovviamente mi state mandando Tutti centinaia di messaggi In cui mi inviate le story Di da Supreme E mi chiedete Che cosa è successo Tra me e lui Adesso ve lo spiego Premetto che non mi va Di far casino Di sembrare come i ragazzini Che si distano Nelle Instagram stories Però Ovviamente Dopo quanto ha scritto lui Nelle sue Sono obbligato O meglio Mi sento in diritto E in dovere Di dire la mia Per farvi sentire Anche la mia campana Poiché sinceramente Avrei preferito Che la cosa Si chiudesse prima Senza argomentarla Ulteriormente Nonostante ci fossimo Sentiti privatamente Secondo me Non ha recepito Il messaggio Che era quello Di sotterrare L'ascia di guerra Senza creare ulteriori polemiche Invece da quello Che ha scritto Secondo me Le ha alimentate E quindi Poiché l'avevo avvisato Che avrei parlato pubblicamente Adesso da Supreme Ti spiego che cosa penso io Di quanto è scritto E di quello che ci siamo detti Stiamo dal presupposto Che al contrario Di quanto è scritto Il mio commento Non era una risata In faccia a tutti i credenti Era una provocazione Bella e buona Perché sinceramente io Dopo anni di musica E di carriera Di leggere certe storie Su S Magazine Piuttosto che su Qualsiasi altro blog Barra pagina Che dovrebbe parlare di rap Mi è co***o pieni Cioè È inutile che faccio finta di niente Sto diventando intollerante Perché ormai Chiunque dice la propria Chiunque scrive articoli Guarda Tu sei un bravo ragazzo Io non ce l'ho con te Lo sai Però secondo me Tu dici un sacco di c***o Quando parli di musica Però andate da Supreme Hai detto anche Che quel commento lì L'avresti lasciato sotto La pagina di chiunque Secondo me Questa è una c***o Bella e buona Perché io non ti ho mai visto Polemizzare O lasciare commenti del genere Sotto ai post di Salmo O ai commenti di Jimmy Tides Madman Tutti amici, fratelli Che però smadonnano Cioè Anche più di me Sui social Sul palco addirittura Davanti a tutti Quando ti ho fatto notare questa cosa Mi hai detto che loro Lo fanno sui loro social E quindi rivolgendosi a un pubblico Che li segue Che li conosce per quello che sono Ma perché? Scusa io dove l'ho fatto? Su S Magazine Chi pensi che ci sia? Quelli di Radio Maria? Famiglia Cristiana? Cioè non lo so È un blog che parla di rap Lì ci sono gli stessi Che ascoltano me Che ascoltano te E che ascoltano quelli Che ho appena citato Quindi di cosa stiamo parlando? Poi quando ti ho detto Che mi hanno riferito Che anche tu bestemmi Hai confermato Mi hai detto Sì beh certo Che nella vita ho smadonnato pure io Però poi dai 18 anni in poi Ho cambiato idea A parte che boh Sei giovane Quindi ti sei convertito da poco L'altro ieri Probabilmente hai fatto 18 anni Ma poi in secondo luogo Ti dico ma cos'è? Sei come i vegani Che tipo diventano vegani E da un giorno all'altro Cominciano a rompere il c***o Tutti quelli che mangiano la carne E poi è paradossale Che tu sui social Non metti mai niente Cioè non sei molto attivo Però per rompere i c***i A me sei stato presentissimo Fulminio Quello Posso anche non condividere la tua idea Ma la rispetto Ognuno ha addirittura Di avere la propria opinione Ma è il metodo Che ha sbagliato Posso lasciarmi sta freccetina Così gratuitamente Senza che Ci siamo mai conosciuti E soprattutto Io non ho mai parlato male di te Semmai ho dovuto parlare di te Non mi sono mai esposto In maniera negativa Anzi forse addirittura Ne ho parlato quasi bene E tu mi scrivi imbarazzante Io imbarazzante Frate guarda che anch'io Ho trovato imbarazzante Tante delle cose che hai fatto tu Però non è che sono venuto A romperti con i c***i A scrivertelo sui social Per farmi bello Questa è la differenza tra me e te Tra gli adulti e i ragazzini E non parlo di età Parlo di animo Quindi il consiglio che ti do A te Ma a tutti quelli della tua età Che avete un po' Questo tic nervoso Di provocare su Instagram Rifletti Visto che in privato Sei stato molto più esaustivo Molto più educato Anche secondo me La prossima volta Fallo anche quando scrivi pubblicamente Parla bene Sui social almeno Nelle canzoni faccio fatica A capire che cosa dici Ma almeno sui social Visto che sei iscrive Scrivi bene Così non si creano fraintendimenti E la gente Non mi chiede che cosa è successo La prossima volta Non devo spendere Dieci minuti Alle cinque di mattina A parlare di sta struttura Vi dico l'ultima roba Poi vi molle Me ne vado a dormire Ci tengo Che non mi venga appiccicato Adesso le immagini Di quello che promuove Le bestemmie gratuitamente Perché vi assicuro Che non è così E se mi conosceste Lo sapreste pure voi E penso che spesso Siano fuori luogo In realtà Ma non mi è piaciuto Per niente Leggere che qualcuno Ci dica Dico ci perché mi includo In questa nicchia Quello che dobbiamo Non dobbiamo fare con la musica Cioè noi facciamo E diciamo il c***o Che ci va con la musica E penso che spesso Siano fuori luogo In realtà Ma non mi è piaciuto Per niente Leggere che qualcuno Ci dica Dico ci perché mi includo In questa nicchia Quello che dobbiamo Non dobbiamo fare con la musica Cioè noi facciamo E diciamo il c***o Che ci va con la musica Basta Cioè nessuno ha diritto Di dirci quello che dobbiamo dire O non dobbiamo dire Cioè nel lontano 2011 Rappavo Mollatemi con il buonismo Sei rap o bestemmie Che voglia di riascoltare Ascolta Che non vuole spegni E la penso tutt'oggi così Cioè io non vedo giornalisti Che vanno a rompere il c***o I registi Perché nei film E mettono qualsiasi cosa E invece boh Con la musica rap Ce n'è sempre una Cioè una volta Oggi sono le bestemmie Ieri erano I testi Che sono rispettosi Nei confronti delle donne Basta Cioè basta A maggior ragione Se la musica non la fate Cioè io sono un appassionato Di cucina Ma quando vado al ristorante Non è che entro in cucina E vado dallo chef A dirgli che cosa deve O non deve mettere Dentro la pentola Perché non è il mio lavoro Lo saprà lui no Ecco voi Fate lo stesso con noi E dopo la pubblicazione Di questo lunghissimo sfogo Pubblicato sul suo profilo Instagram E Miss Kill Decide anche poi Di fare una precisazione in più Che riguarda proprio Da Supreme E infatti il rapper scrive Comunque Non ce l'ho davvero Con Da Supreme Per me è chiusa qui Mi spiace per la battuta Sui suoi testi Mi è uscita distinto Per via della mia Lingua pungente Non me la rimangio Non capisco che c***o Dice nelle sue canzoni Ma mi piacciono Notte a tutti Mi piace poi Quando finiscono Questi bellissimi pezzi Di dissing Con Notte a tutti Un bacio cari E che bello Vabbè E tutto questo trash Questo disquisire Sulle bestemmie Nelle canzoni È stato anche commentato Da un altro rapper E cioè Da Jamie Tice Che ha voluto Commentare Tutta questa vicenda Così La musica è arte Nell'arte Una cosa imprescindibile È la libertà D'espressione Non sto dicendo Che bestemmiare Sia giusto Ovviamente Ma qui parliamo Di social network Non di musica Stiamo parlando Di commenti Instagram Tra l'altro Io tutta questa musica Piena di bestemmie Non l'ho mai sentita La trovo una polemica Un po' Superflua Ci sono cantanti Di ogni genere Che parlano Di qualsiasi tipo Di oscenità E disrispetto E non parlo Di rap Specificatamente E hanno un loro pubblico Quando Marilyn Manson È salito sul palco In Mondovisione Ha dichiarato Di essere Il figlio del diavolo È stato uno dei momenti Che mi ha ispirato Di più La potenza E l'irriverenza Di un artista Così particolare Centrico Ed intelligente È passato Alla storia Con questo Non sto mettendo Sullo stesso piano La storia di Amis Con questa Ma è un esempio Anche quello È disrispettare i credenti Le canzoni Che vanno di moda Adesso in Italia Sono di ventenni Che parlano Di mangiare gli Xanax E bere la codeina Con la gang Trovo molto più cringe Questo Che una bestemmia Sarcastica Sotto un post E di fronte a tutta questa Vera e propria Buffera social Il diretto interessato Che ha scritto Il tanto discusso Post su S Magazine E cioè Wad Caporosso Ha commentato il tutto Scrivendo Ops Sorry Non volevo creare Tutto sto casino E dopo questo Primo messaggio Pubblicato sul suo Instagram Wad Caporosso Decide poi anche Di pubblicare Un lunghissimo sfogo Sempre Tramite le sue stories E devo dire che forse Questa parte di video Sarà più interessante Per chi Mastica Un pochino di più Il rap Allora Amigos Visto che tutto Questo caos Parte da Un mio post Mi sento di dire Mi sento di dire due cose Soprattutto A Demi Schilla Che come dice lui Di me È un bravo ragazzo Ma ogni tanto Spara Carrile Questo per dire Che chiaramente Lui è molto più esperto Di me A fare stories Provocatorie Polemiche Alcune Alcune sono epiche Tipo quando si scontrava Contro quelli che puzzano In palestra E non si lavano E lo sa che Queste cose Mi hanno fatto Sempre molto ridere Al di là Dell'articolo in sé Del concetto Che vedo Che insomma Esplode in vari sensi Il discorso della religione È molto delicato Che però Evidenzia Un approccio Molto provinciale Dell'Italia Non parlo del rap italiano Dell'Italia Come per esempio Il fatto che Amy Schilla Nelle stories Dica Che è stanco Delle opinioni Eccetera Cioè questo Dissacrare L'opinione Il dibattito È un'attitudine Fortunatamente italiana C'è un argomento Come questo Di questo weekend Che ha fatto più Buds Delle uscite discografiche Di due Tre settimane In America In Francia Sarebbe l'argomento Del giorno Nelle radio Nei magazine Nei talk show Su Hot 97 Parlerebbero di questo Perché è l'opinione Che dà importanza Al fatto stesso E alla musica Ok Dicevo Scusate le troppe stories La concezione Che la musica Venga versata Dall'alto Da un artista È una concezione Anni 60 I Beatles Dal tetto Suonavano E la gente sotto Adorava Nel 2020 L'opera d'arte Il quadro La musica Il quadro Nel museo È importante Tanto quanto Il parere Che la gente Ha di quel quadro Non l'ho deciso io È il 2020 È così Ok Quindi l'opinione Della gente Delle pagine Dei giornalisti Delle radio È importante Purtroppo Vi piacciono Ti piacciono Dico a Amy Schille A tutti quelli Della middle generation Perché io che sia Che noto che questo Sia un problema Più della middle generation Perché i newcomers E il commento Di Da Supreme Ne è una prova Hanno un tipo Di apertura Diverso Rispetto a questo tema Del condividere Ok Dell'apertura mentale Tutto ciò Sto dimenticando Di taggare Amy Schilla Magari fategli arrivare Ma non è una cosa Contro di lui Per quanto il suo commento Al post Come ha sottolineato Da Supreme È stata un po' Una caduta di stile Ma anche lì Sono punti di vista A me non interessa Mi interessa Che chi fa Il mio lavoro Abbia una dignità Che è quella Del raccontare E diffondere Le opinioni E anche la musica Non è vero Che Che chi fa Questo Non debba essere Preso in considerazione Sono stanco Di opinioni Di chiunque Non è solo Che magari L'attacco è Verso di me Di chiunque È la stessa cosa Del politico Che insulta Non lo so Saviano Perché Fa un approfondimento Eccetera È lo stesso Caso di atteggiamento È successo Più volte Nel record italiano Soprattutto per gli artisti Middle generation Che si comportassero Un po' come Le persone che Insultano Nelle canzoni È quella Quell'atteggiamento Un po' Da politica italiana Che secondo me Ormai è arrivato Il momento di dire Basta A quello Basta a quello È il 2020 E Si condivide Ci sono le culture Di tutti E bisogna Assolutamente Considerare Questo Aggiungo un'altra cosa Un PS Che È nel DNA Del rap La reazione A qualcosa Cioè se una canzone Rap Non ha Non fa scaturire Una reazione È quasi Un insuccesso Dai tempi Di The Message Quanto meno A livello sociale Culturale Che c***o di atteggiamento È quello di dire No Basta Su questi Che hanno Delle opinioni Al di là Che sia io A farlo E Demi Schilla Sa benissimo Il mio background Esistono le culture Di tutti Esistono i pensieri Di tutti E l'opinione Di tutti Il pensiero Di una persona Non è inferiore O superiore All'artista E alla canzone Quel post Non voleva Decidere Come si Debba fare La musica Non è così Figuriamoci Ma allo stesso tempo Un artista Chi c***o Chiunque Questo sia Non deve decidere Come la gente Debba esprimersi Bene ragazzi Finalmente Siamo arrivati Forse alla fine Di questo Bellissimo Dissing Senza fine Devo dire che forse C'erano anche Mille altre cose Da dire Io non mi dilungo Più di tanto Perché secondo me Questo video è diventato Praticamente una divina commedia Ma Se posso dire Una semplice cosa Noto purtroppo Sempre con un pochino Di dispiacere Anche Che a volte Si esageri apposta Sia sui social Sia nelle canzoni Per secondo me Creare un po' Di drama Ma Finché si parla Di drama Abbastanza Più o meno Come dire Accettabile Ok Siamo tutti felici Siamo qui infatti A parlarne Quando però Si supera un pochino Il limite Insomma Vabbè Però devo dire Che in questo caso A parte l'imprecazione Pubblica Fatta da Amy Schilla Che magari Potrebbe aver offeso Qualcuno Non lo so Io non sono credente Però mi metto anche Dall'altra parte E magari ci potrebbe essere Qualcuno Che leggendo Un'imprecazione Si sente un po' Male Perché appunto Ci crede E secondo me Qua poi Mia opinione Chi bestemmia Dovrebbe essere Una persona Credente Questo perché Perché tu Se nomini Il nome di Dio In vano È perché Presupponi La sua esistenza Il fatto che lo faccia Una persona atea E non sto dicendo Che Amy Schilla Lo sia È proprio un discorso Generale Però il fatto che Una persona atea Lo faccia Per il semplice fatto Che è cool Che è bello È ganso Oddio ganso Non si sentiva da lontano 1922 Però Ora dico Cioè Se tu sei una persona Non credente Il fatto di bestemmiare Secondo me Non ha molto senso E farlo semplicemente Perché fa figo Fa bello Lo trovo abbastanza Di una bassezza Come dire Ingiustificabile Poi sarà forse Che io non ho mai utilizzato Bestemmi e cose varie Nel mio linguaggio Quindi sinceramente Mi vedo abbastanza lontano Da tutte quelle persone Che lo fanno Non giudico nessuno Ognuno poi è libero Di esprimersi Come meglio crede Magari Secondo me In contesti pubblici Non va tanto bene Soprattutto se sei Anche poi una persona Abbastanza seguita Che poi venga fatto Come in questo caso Da Emi Schilla Per provocare Ok però secondo me C'era un modo Magari un pochino diverso Per farlo Però ognuno Si esprime come meglio Crede come dico sempre Fatto sta adesso però Che fatemi sapere voi Qui sotto con un commento Come sempre Cosa ne pensate Se state dalla parte Di Emi Schilla Se invece state dalla parte Di Da Supreme Fatemelo sapere Sentitevi pure liberi Di pubblicare Tutto quello che vi pare Magari non bestemmi ragazzi Ma tanto già so Che sto dicendo questa cosa E mi ritroverò Delle bestemmie Nei commenti Però vabbè Fortunatamente c'è YouTube Che mi permette Di eliminare le cose Abbastanza facilmente Quindi non preoccupatevi Cercherò Cercherò in un certo senso Di eliminare Il più possibile Queste imprecazioni Gratuite Che già vedo purtroppo Sotto i miei video Scusate ma questa cosa Ve la dovevo dire Sotto i miei video 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 Sotto i miei video